C'è quella barzelletta, no? Ti ricordi Don Matteo? Due fidanzati, ci sono due fidanzati e lei chiede a lui, ma noi un giorno ci sposeremo mai? Lei gli chiede tutta innamorata, no? Due fidanzati, lei tutta innamorata gli chiede, ma noi un giorno ci sposeremo mai? E lui risponde, beh sì, se troveremo le persone giuste per noi, perché no?